di una disciplina che si chiama psico-biogeneologia. La psico-biogeneologia è una scienza che studia gli alberi familiari, cioè quindi quello che ci succede dal lato del padre, della madre, tutti un po' i casini, i nomi che si ripetono, le malattie che si ripetono, le dinamiche che si ripetono, ha fatto un grandissimo lavoro su questa cosa qua, quindi era secondo me un uomo di scienza veramente, uno scienziato, ha lavorato, ha fatto la sua nave, però si occupava di teatro, è stato direttore del Puccini di Firenze che non è neanche l'ultimo teatro diciamo italiano ed è stato uno che insomma è straconosciuto. Allora io invece in quell'occasione lì fu la prima volta che conobbi lui perché Giudoroschi l'avevo già visto e allora mi disse iniziamo a parlare di psico-biogeneologia, però poi in un certo punto mi diceva ma tu suoni, no, poi io sei pianissimo, ma perché non facciamo una serata insieme, ha detto, cosa vogliamo fare, siamo a mercoledì, domenica venerdì, no, venerdì organizziamo, ciocchiamo un locale, un posto, no, ha detto ma ci siamo messi un po' a parlare, ha detto sì la chiamiamo serata di musicoterapoesia, ha detto, ah, in effetti ci venne fuori questo nome, no, e che poi è rimasto qui, no, di fatti questo libro è dedicato anche ad Antonio Bertogli, no, che è scomparso, proprio perché ricorda quella sera lì e come andò quella sera? Antonio scrive delle poesie molto belle, adesso qua non ne cito perché sennò sarei abbastanza lungo, gli disse, vabbè, dimmi almeno che cosa, cioè di cosa stiamo parlando, quali delle tue poesie voglio fare, alla fine mi arrivò la sera prima via mail una lista di roba e al mattino ci siamo visti alla Casa della Musica che Andrea Viallardi conosce piuttosto bene, parte dalle nostre origini e abbiamo iniziato così a, io iniziai a prendere degli appunti, a suonare eccetera, così sono per tutta una serie di poesie, mandando a nastro, cioè due o tre ore di prove, dopodiché ho detto, vabbè, adesso ci mettiamo a lavorare, lui si alza in piedi e mi dice, no, abbiamo finito, ho detto, abbiamo finito, abbiamo ancora iniziato, no, 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 va benissimo, guarda, stai tranquillo, io ero lì che sinceramente, scusate, mi ha faccio un po' sotto, lui è una persona abbastanza conosciuta, abbiamo organizzato questa serata, non eravamo in tempi di Covid, quindi c'era la possibilità di riempire anche abbastanza, anche se questa sera qua un po' di gente c'è e andò benissimo, andò benissimo nel senso che riempimmo proprio la casa della musica, no, ci vennero quasi una stantina di persone che poi al fine non potevano neanche, mi sembrava veramente una cosa esattiva e iniziamo a fare questa esperienza che poi si sarebbe dovuta ripetere perché io avrei dovuto scrivere